Allora, seconda giornata di prova, siamo qua nella Hall, come alcuni dei baseletieri, per esempio Raul da Foligno, poi c'è Davide da Firenze, poi c'è Brunello da Salò, Brunello da Salò, adesso ti prepariamo per la seconda giornata di prove, siamo in diretta, amici, ciao amici, amici, quindi domani c'è la registrazione totale, come va va, c'è Davide, adesso si alza Davide, lui è il bambino, un gigante senese, è un ragazzo, come dice la presa, come dicono la presa, e se no va fatta inquilata, se il destino ci sarà, mezzo, cazzi sì, ecco, e invece il Friuli ci dice, ecco, spostati però, scura spostati da dietro, ecco, bravissimo, e con questa bella immagine, una roba vergognosa, una roba vergognosa, vergognosissima, ecco, vedete che abbiamo già, lo stemma è presente anche qui a Cologna, a Cologna, a Montagno, ciao, 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 ciao.